Gli agenti del commissariato di Grottaglia hanno portato a termine l'operazione Save City, a seguito della quale 5 giovani del posto sono stati arrestati per rapina, ricettazione, possesso ingiustificato di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso fra loro. I manette Giuseppe De Felice, quarantenne, Ciro Fasciano di 25, i fratelli Massimo, Diego e Gabriele Trivisano, rispettivamente di 24, 23 e 21 anni. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria invece nei confronti del 23enne Vincenzo Fumarola. Le indagini sono partite dopo una rapina a mano armata portata a termine l'11 febbraio scorso nei confronti di un vigile di Grottaglia da due individui col volto coperto da passamontagna. Alla vittima erano state rubate la pistola d'ordinanza, le manette, la radioportatile e il telefono cellulare. Gli agenti avevano già arrestato nel marzo 2010 tre persone, fra cui due minori, ritenute responsabili di una rapina e danni di un noto professionista. È stato verificato che gli stessi, unitamente ai cinque grottagliesi presi stamattina, si frequentavano piuttosto assiduamente, che tutti erano dediti allo spaccio di droga, la detenzione abusiva in luogo pubblico anche di armi da fuoco, fra cui anche un fucile. Non sono accusati di associazione a delinquere. Il gruppo aveva anche incendiato le autovetture degli agenti del commissariato di Grottaglia che stavano seguendo le indagini sfociate nel ritrovamento del cellulare sottratto al vigile. Esaminate le impronte digitali e ricostruito il quadro, si è proceduto all'arresto.